Siamo notati Gesù e Maria, cari amici, sta per partire questo video di questo ciclo di Catechesi, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, spuntare la campanella per le notifiche e al termine del video, se il video vi piace, di mettere un bel like e una condivisione con qualcuno per diffonderlo, se lo reputate opportuno per il bene di altri anime. Buona visione a tutti. Laudentur, Iesus et Maria, amici carissimi, bentornati ad una nuova puntata del ciclo di Catechesi, dedicato al Catechismo Romano del Concilio Tridentino, un bel viaggio dentro la sana e santa dottrina cattolica, spiegata in termini abbastanza articolati ed estesi, come stiamo imparando a conoscere e riconoscere dalla lettura e dal commento di questi numeri. abbiamo terminato dopo un discreto cammino la prima parte del Catechismo, che era dedicata al commento degli articoli del Credo. La seconda parte, sapete che tutti quanti i Catechismi sono impostati fondamentalmente in tre grandi parti, la fede, la legge e la grazia. Cosa dobbiamo credere? Cosa dobbiamo fare? E cosa dobbiamo sperare per poter fare quello che dobbiamo e godere quello che ci ha promesso? Il Catechismo Romano parte subito con i sacramenti, quindi prima ancora di parlare della legge parla della grazia, perché senza la grazia la legge non possiamo osservarla. E parlando della grazia evidentemente il primo grande discorso che deve essere aperto è quello sui sacramenti. quindi c'è una prima parte in generale che riguarda i sacramenti in generale, poi faccio un'illustrazione generale, i sette sacramenti, ossia il battesimo, sia dei bambini sia degli adulti, del battesimo parlerà tantissimo, la cresima, quindi parte con i sacramenti dell'iniziazione cristiana e l'eucaristia. Sull'eucaristia ovviamente ci sono tantissime cose, tenuto anche conto del contesto storico in cui è stato emanato questo Catechismo, insomma quindi la polemica luterana, quindi capite che i sacramenti avranno una parte assolutamente preponderante, se uno vuole farsi proprio una sana e santa overdose di dottrina cattolica sanissima sui sacramenti, ecco, ha trovato il posto dove andarsi a cibare, perché qui proprio è non plus ultra. Sull'eucaristia non vi dico i numeri, penso che ci staremo forse sette, otto, forse dieci puntate. Poi c'è il sacramento della penitenza, anche qui sappiamo bene che Nutero ha detto che ci si confessa direttamente con il nostro Signore e che basta la fede e la misericordia per avere il perdono dei peccati, quindi anche qui tantissime considerazioni sul sacramento della confessione e della penitenza, ci sarà veramente, vi dico, da divertirsi, andremo molto oltre anche ancora delle mie più fervorose catechesi, poi l'estrema unzione, anche qui, qui chiaramente il discorso sarà ragionemente più breve, e poi l'ordine sacro, anche qui ci sarà da piangere per certi aspetti, e poi il matrimonio, poi comincerò la parte terza con i precetti del decalogo. Bene, andiamo ovviamente con ordine, cominciando la lettura dei sacramenti in generale, perché prima dobbiamo capire cos'è un sacramento, e quindi oggi cominceremo la parte seconda dal numero 148, penso che i primi numeri li faremo, 148 la dottrina dei sacramenti è necessaria ai parroci, 149 il termine sacramento, il 150 la definizione del sacramento, quindi cos'è un sacramento, il 151 spiegazione della definizione è un segno, 152 perché il sacramento si dice segno, 153 il sacramento è un segno stabilito da Dio, 154 differenza tra il sacramento e gli altri segni sacri, 155 molteplici significati dei sacramenti, 156 cause dell'istituzione dei sacramenti della nuova legge e 157 materia e forma dei sacramenti, poi 158 lo ci rimane dei sacramenti, 159 il numero dei sacramenti, 160 i sacramenti non sono tutti ugualmente necessari, 161 Gesù Cristo è l'autore dei sacramenti, 162 i ministri dei sacramenti e 163 gli effetti dei sacramenti, infine 164 l'effetto speciale di alcuni sacramenti cioè il carattere e 165 rispetto e frequenza dei sacramenti. Ovviamente non lo faremo tutti questa sera, quindi io comincio e poi in base alla chiarezza e alle pause più o meno lunghe di commento catechetico, spiegazioni che dovremmo fare, poi arrivati come sempre ad un certo momento per non appesantire troppo ci fermeremo aggiornandoci alla prossima puntata. Comincio la lettura. Numero 158 la dottrina dei sacramenti è necessaria ai parloci. Se ogni parte della dottrina cristiana richiede nel parroco sapere e dirigenza, la dottrina dei sacramenti necessaria per volere di Dio e fecondissima di bene suppone in lui una capacità e uno zelo speciale affinché i fedeli, meditandola con cura e frequenza, vengano preparati a ricevere in maniera degna e salutare misteri così eccelsi e sacrosanti. nello stesso tempo nello stesso tempo i sacerdoti non si allontaneranno dalla norma di quella divina interdizione non date ciò che è santo ai cani e non buttate le vostre perle davanti ai porci allora prima doverosa pausa numero uno si raccomanda al parroco che se in ogni parte della dottrina è in lui richiesto sapere e dirigenza qui deve proprio ardere di zelo speciale perché un sacerdote questo lo ricordiamo prima di ogni altra cosa è proprio allora si diventa predicatori col diaconato perché il diacono è il ministro della parola che cosa c'ha in più il sacerdote che amministra i sacramenti e quando è anche parroco ha anche una certa partecipazione di un certo potere giurisdizionale quindi una certa potestà nella chiesa quindi ha autorità sulla porzione di anime che il vescovo gli ha affidato ma la quiddita spropria sono i sacramenti e lui li deve amministrare con zelo ma deve anche e qui però non può farlo da solo perché qui necessita di una risposta da parte dei fedeli deve preparare i fedeli a ricevere in maniera degna e salutare misteri così eccelsi e sacrosanti in maniera degna e salutare quindi significa che i sacramenti possono essere ricevuti in maniera indegna e insalutare cioè insalutare mi si passi il termine no non salutare cioè non giovevole alla salvezza ma come? i sacramenti sono stati istituti per la salvezza e possono essere non giovevole alla salvezza? certo se non li dicevi nel modo dovuto e questo evidentemente in parte dipende dal parroco il parroco deve godicarsi per questo ardere dice di zelo speciale ma in parte dipende anche dai fedeli e nella parte conclusiva c'è l'interpretazione autentica di quel passaggio forte contenuto nel discorso della montagna l'ogion importantissimo anche se impegnativo di Gesù non date ciò che è santo ai cani e non buttate le vostre perle davanti ai porci da cui forse non tutti sanno che deriva il detto popolare ah questo lo sanno cani e porci cani e porci da qui deriva non date ciò che è santo ai cani cani nella saga scrittura cani venivano chiamati dagli ebrei pagani porci sono gli animali immondi quindi vuol dire che chi vive di fatto come un pagano non può avere accesso ai sacramenti a nessuno neanche al battesimo e neanche alla penitenza che sono i sacramenti dei morti perché certo questi sono per i peccatori sì quindi chi è che viene battezzato un pagano ma un pagano che prima di essere battezzato è diventato catecumeno cioè che sta facendo un cammino di conversione così il sacramento della penitenza è un sacramento che esige la conversione dato per dirne uno la soluzione non può essere data sempre comunque dovunque a chiunque ma non perché il ministro è cattivo perché il ministro è un ministro se una persona non è disposta nel senso che non ha le dovute disposizioni non può ricevere quel sacramento se una persona non può fare la comunione e questo appare o da cose che sono notorie oppure anche da atteggiamenti mostrati sull'atto proprio nell'atto di ricevere la comunione non può e il ministro è soggetto a questo ordine di Gesù non è un tassativo non date le cose sante ai cani e non gettate le perle davanti ai porci non si può fare quindi questa è la premessa quindi vuol dire i sacramenti sono le cose sacre le cose più sante che esistono deputati e destinati alla santificazione degli uomini è vero lo vedremo che operano ma attenzione devono essere ricevuti degnamente in maniera degna e salutare se no non funzionano anzi producono effetti contrari ok questo mi raccomando sia chiaro il termine sacramento numero 149 volendo trattare dei sacramenti in genere è bene cominciare dal valore significato del termine stesso spiegandone i molteplici sensi al fine di intendere più facilmente qual è quello nel quale viene usato in questo caso si insegnerà pertanto ai fedeli che il vocabolo sacramento è stato adoperato in diverso senso dagli scrittori profani e da quelli sacri il diritto romano per esempio le leggi saczione e sacramenti riminiscenze, istituzione, diritto romano i primi lo hanno applicato a quell'obbligazione per la quale ci costringiamo con giuramento a un qualche vincolo di servitù così il giuramento con cui i soldati promettevano fedeltà allo Stato veniva chiamato sacramento militare questo sembra il significato più frequente della parola presso gli scrittori profani quindi un'obbligazione sancita dal vincolo del giuramento fondamentalmente per assumere un qualche vincolo significativo un soldato era di fatto un servo di Roma ma i padri latini che scrissero gli argomenti sacri intesero per sacramento attenzione una cosa sacra che si mantiene occulta occulta non nel senso dell'occulto una cosa sacra che è nascosta che è misteriosa infatti nel medesimo senso cioè nel quale i greci adoperavano la parola mistero infatti misterion greco si traduce in latino con sacramentum misterium fidei si usa per il sacramento per antonomasia che è l'eucaristia si può dire misterium fidei ma si può anche dire sacramento della fede perché forse non c'è sacramento più dell'eucaristia in cui la fede è coinvolta al massimo grado perché nell'eucaristia dobbiamo fare un atto di fede veramente grande non soltanto credere che attraverso l'ostia arriva un pochino di grazia questo con un po' di sforzo l'ostia c'è Gesù Cristo presente in persona come sta in cielo quindi una cosa naturalmente impossibile appunto in questo senso si deve prendere la voce sacramento nell'epistola a quelli di Efeso per esempio per far nato a noi il sacramento della sua volontà Efesino 1.9 che è tradotto in italiano con il mistero della sua volontà però in greco il mistero in latino è il sacramento a Timoteo grande è il sacramento della pietà primo Timoteo 3.16 ma anche qui nelle traduzioni moderne troviamo grande è il mistero della pietà ovviamente nella pulgata si trova magnum sacramentum pietatis e nella sapienza disconobbero i sacramenti di Dio di Empino capitolo 2 versetto 22 ma troviamo in lingua corrente disconobbero i misteri di Dio sempre in termini dell'epo misterio in questi passi e molti altri il sacramento notifica altro che è una cosa sacra nascosta e occulta quindi già in questa prima battuta quindi con questa prima significazione siamo ancora a livello semantico cosa sacra nascosta e occulta anche il termine sacramentum ha la radice di sacro e dinanzi al sacro qual è l'atteggiamento che bisogna avere? la riverenza somma esteriore e interiore i sacramenti vanno degnamente amministrati e degnamente ricevuti esempio io faccio sempre gli esempi un sacerdote deve celebrare degnamente l'eucaristia in tutto le tovaglie dell'altare le candele che devono essere poste in un certo modo preferibilmente di cera naturale i paramenti sacri il modo con cui celebra il portamento come tocca l'eucaristia come tratta l'eucaristia come distribuisce l'eucaristia eccetera 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 similmente i fedeli devono stare ammessi in un certo modo in silenzio in ascolto in adorazione in piedi in ginocchio a seconda dei momenti perché stiamo dinanzi a una cosa sacra le confessioni quante volte mi dicono ma il professore non c'aveva la storia siamo messi in un tavolo in una scrivania io stavo seduto in una scrivania a me cosa non mi sembra una confessione allora è confessione perché non ci sono regole ad validitatem cioè non sta scritto da nessuna parte che se ti confessi dietro a una scrivania la confessione è invalida però per quanto riguarda il rispetto per una cosa sacra anche insomma l'idea no? cioè la confessione si fa almeno con la stola addosso ma sarebbe meglio avere per chi porta la tanare la cotta e la stola per chi porta la tanare il camice e la stola addosso e usare il luogo tuttora preposto all'ascolto delle confessioni che è il confessionale fare bene il seno della croce quindi dare anche l'impressione che stiamo trattando un sacramento non stiamo facendo una chiacchierata non sono cose non importanti e qui adesso che per grazia di Dio qui purtroppo in questa bellissima chiesa c'è il problema dei confessionali perché ci sono i confessionali d'epoca in cui però oggi la gente ha imparato ha disimparato male che sia in chiesa che quando ci si confessa si parla non a bassa voce ma sotto voce ma non vorrei fare il cinematogra perché stiamo insomma in diretta e poi sta cosa rimane in video e in audio a tempo indeterminato però facciamolo così uno capisce io adesso sto parlando a voce normale se dovessi parlare a bassa voce parlerei così bassa voce vuol dire che il timbro della mia voce è riconoscibile anche se ho abbassato noturamente in volume riparlo normale se io in confessionale con i confessionali di un tempo quindi quelli con la doppia porticina e le grate parlo a bassa voce sentono tutto perché bassa voce si sente così come quando in chiesa cosa che non deve succedere quasi mai ci dovesse essere una necessità di parlare non si parla a parte che non si parla mai alta voce per nessun motivo ma anche chissà che cosa ma a bassa voce nemmeno si parla perché a bassa voce tu disturbi se qualcuno sta pregando è comunque una riverenza verso il luogo sano in chiesa e quando si confessa si parla sotto voce per far capire accosto bene il microfono alla bocca se no sotto voce è così così si parla sotto voce quindi vedete che quando uno parla sotto voce non si riconosce il timbro della voce appunto perché è sotto voce ok ho fatto un po' di cinematografo in chiesa si parla così in confessionale si dovrebbe parlare così solo che se qualcuno per esempio qua a Sermoneta età media 70-75 anni a quell'età l'udito vacilla e stiamo diventando tutti un po' sordi a forza delle musiche televisioni eccetera eccetera quindi che succede con i confessionali così non potevo usare il confessionale e quindi la confessione l'avevo portato con un inginocchiatoio ovviamente in ufficio interno alla canonica mi mettevo la stola però a me questa cosa è che mi piaceva granché finalmente dopo tanto tempo ho fatto costruire un bel confessionale con le porte insonorizzato ecco la grata e adesso finalmente le confessioni si fanno in confessionale quindi in ufficio si fanno i colloqui e le confessioni si fanno in confessionale perché è un sacramento ora non è che quando li facevi in ufficio non erano validi ma il senso appunto il carattere sacro è importante i fedeli che chiaramente non sono istruiti si preoccupano che la confessione sarà valida e non ci avevamo ancora la stola addosso parlano in questo modo certamente perché non hanno cultura teologica però il fatto che si fanno questa domanda fa capire che ciò che trasmetti se tu in caso di necessità durante il pellegrinaggio stai in giro per strada non ti sei scordato la stola puoi ascoltare una confessione anche senza stola e dare la soluzione paritamente però un conto è questa è una situazione di emergenza di necessità sapete che situazione di emergenza i carcerati i presi e i vescovi sono stati carcerati nei campi di concentramento c'è brava la messa bastava che trovassero un pochino di pane anche non azimo un pochino di vino e in quei casi non è che fa tutta la messa fai la consagrazione e fai la comunione perché c'è tempo cioè fai l'essenziale quindi è una situazione di emergenza situazione di emergenza certamente ordinariamente no perché è un sacramento il sacramento va trattato come sacramento quindi come cosa sacra e perché tu capisci che una cosa è sacra vale anche il contorno esteriore che non è formalismo non è che tu sei un fariseo ma non è affatto vero è l'onore e il decoro dovuto ad una cosa sacra perché se tu non fai attenzione di trasmettere la sacralità poi il sacramento dei campi non sarà più considerato una cosa sacra è inevitabile la stessa cosa la gente che capisce non tanto può essere molto contenta per esempio che nella liturgia adesso si usi la lingua volgare ah ma se no non capisco niente la liturgia è un'azione sacra quando un sacerdote compie un atto liturgico sia appunto la messa che è il top un sacramento il battesimo la penitenza una sacramentale la benedizione no? sta amministrando cose sacre sta trattando cose sacre sta trattando con Dio il venerato latino lingua ancora ufficiale della Santa Madre Chiesa è stato da sempre utilizzato nonostante avesse avuto sempre tanti nemici da sempre i primi grandi nemici del latino sono stati i luterani Lutera ha tradotto la Bibbia in tedesco e il cerebrato viene in sé in lingua volgare perché? perché? perché perché in realtà non si capisce niente e tutti vanno dietro a questo io ho imparato ad apprezzare a suo tempo queste cose ma anche io non le apprezzavo anche a me sembrava a un primo acchito ma forse sarebbe meglio se uno non capisce niente ma dopo però mi sono dovuto assolutamente di credere perché la lingua sacra dà come effetto anche se tu non capisci niente che stai appunto facendo una cosa diversa dal comune domanda qualcuno forse pensa che fino a quando per esempio si è celebrata quella che volgarmente è chiamata la messa in latino ma poteva venire in mente a qualcuno dipende la comunione in mano erano consacrati i vasi sacri il sacristano non poteva toccare nemmeno i vasi sacri non dico l'ostia senza il permesso del parroco non poteva neanche preparare il calice se tu fai entrare la lingua volgare nella liturgia che differenza c'è tra quello che tu dici al bar con un amico dentro casa è quello che dice il nostro signore nessuna quindi anche il gesto del fare la comunione che è di fatto tra virgolette un pasto sacro il sacrum convivium lo chiama il bellissimo canto che voglia sacrum convivium incopristo sumitur no è un convivio sacro ma se parlo in lingua volgare potrei anche assumere gli stili di un convivio sacro di un convivio profano no quindi che c'è bisogno che il prete come dice oggi ti imbocca come se fossi un bambino ma no questa non è una cosa dignitosa prendi la comunione in mano oh che bello con le mani a forma di croce così come prendi tocchi con le mani il cibo comune capiamo cioè i gesti e così però che cosa succede vai a spiegare a un bambino di nove anni che fa la prima comunione cioè noi siamo adulti voglio vedere terminiamo in diretta quanti ad avere la fede divina e cattolica nella messa e nell'eucaristia non fanno nessuna fatica ci sono stati miracoli eucaristici abbiamo festeggiato dopo la festa del Corpus Domini il nostro Signore l'ha fatti dei miracoli visibili andando incontro anche a situazioni di difficoltà anche da parte dei ministri ordinati perché il Corpus Domini è nato dal miracolo eucaristico di Bozzena lì c'era il famoso Don Pietro che veniva dalla Trabboemia che c'era questo tormento che si portava nel cuore perché mica è tanto facile credere a quello che succede nell'eucaristia quindi i segni esteriori concorrono alla sacralità sacramento significa cosa sacra nascosta occulta non è una cosa alla tua portata dice in latino non capisco niente ma meglio perché questa non è una cosa alla tua portata metti una bella traduzione a fronte vicino per carità non è come ma quindi c'hai un accesso mediato perché la lingua è quella vuoi raccapezzarti qualcosa getti un occhio sulla traduzione a fronte davanti immagino i discorsi so benissimo che questi discorsi oggi sono completamente fuori moda d'accordo se fossero ascoltati dalla maggioranza insomma anche dei miei confratelli e superiori non sarebbero d'accordo con quello che sto dicendo però mi sembrano dati oggettivi quando noi ragioniamo io credo che sia sempre importante restare dati oggettivi non alle presi di posizioni precostituite cioè siccome quello che io penso è giusto anche se vedo una cosa che non va che contraddice è giusto quello che penso io proseguo se no non finiamo neanche il 149 perciò i dottori latini giudicarono potersi direttamente chiamare sacramenti taluni segni sensibili che esteriormente mostrano e quasi pongono sotto gli occhi la grazia che producono sebbene essi a detta di San Gregorio si possano anche dire sacramenti in quanto la divina virtù vi opera in segreto la salvezza sotto il velame di segni corporei vedete anche la grandezza dei pari no quindi esempio per far capire mostrano e quasi pongono sotto gli occhi la grazia che producono l'esempio più classico è il battesimo il battesimo ti lava dalle colpe dalla colpa originale e dalle colpe attuali se sei battezzato in ed adulto quindi quale segno più espressivo che te lo pone sotto gli occhi dell'acqua per farti rappresentare appunto qual è la grazia spirituale del sacramento del battesimo però dice san gregorio si dicono sacramenti quelli che sotto il velame di segni corporei operano in segreto la salvezza quindi in maniera invisibile ne pensi qualcuno che tale vocabolo sia recente nella chiesa qui chiaramente c'è una punta di polemica neanche troppo implicita contro i riformatori protestanti poiché chi scorre San Girolam e Sant'Agostino facilmente rileverà come questi antichi scrittori della nostra religione dimostrazione del medesimo oggetto di cui trattiamo spessissimo adoperano la parola di sacramento e tra loro quelle di simbolo segno mistico o segno sacro e basti per il nome di sacramento quanto abbiamo detto e che si può applicare anche ai sacramenti dell'antica legge di questi ultimi però non è necessario dare istruzione ai paroci essendo stati aboliti dalla legge evangelica e dalla grazia o i cosiddetti sacramenti dell'antica alleanza che sono la circoncisione 1 era 1 la Pasqua ebraica 2 sono stati aboliti per cui soffermiamoci con l'attenzione a quelli nuovi che sono stati istituiti da domine Dio negli anni 70 80 90 cominciò ad andare in vigore e in certe realtà ecclesiali tuttora più che in vigore questo mito del mondo e della cultura ebraica giudaica in parrocchie io anche la parrocchia da giovane che ne so arrivava la Pasqua tre giorni prima della Pasqua e intanto facciamo la Pasqua ebraica per capire le origini della nostra Pasqua sicuramente i padri autori del Catechismo Romano di Lentino sarebbero rivoltati nella tomba insomma cerchiamo di capire bene quello che abbiamo e di utilizzarlo bene va bene un secondo momento per cultura personale si può anche approfondire perché quei sacramenti attenzione nell'Antico Testamento ci si santificava attraverso quei sacramenti e Gesù stesso è stato circonciso Gesù è stato circonciso come tutti gli ebrei sono andati a fare le cerimonie ci dicono i Vangeli no? la presentazione al Tempio la purificazione di Maria sono andati a farla perché Gesù ma al momento dell'ultima cena la nuova ed eterna alleanza stop finito ci sono delle cose nell'economia della salvezza che sono a tempo per cui fino alla scadenza del tempo sono santificanti dopo no se ti vuoi santificare adesso devi prendere i sacramenti della nuova alleanza tutti devi prendere andiamo al 150 ci abbiamo con un po' di tempo si definizione del sacramento oltre al significato del termine lo strato fin qui importa investigare diligentemente il valore e la natura del sacramento ed esporre ai fedeli che cosa esso sia nessuno dubita che i sacramenti appartengono a quel genere di mezzi che procacciano la salvezza e la giustizia ma sebbene siano molte le espressioni ritenute idonee a chiarire tale argomento nessuna definizione appare più piana e lucida di quella data da Sant'Agostino e seguita poi da tutti i dottori scolastici il sacramento è un segno di cosa sacra Sant'Agostino da questa definizione nel Decivitate dei dieci cinque di ferimento o per usare altre parole del medesimo significato usate più avanti da San Bernardo il grande San Bernardo l'altro grande dottore sacramento è un segno visibile della grazia invisibile istituito per la nostra giustificazione bellissimo non commento perché adesso è lo stesso catechismo a incaricarsi di commentare 151 spiegazione della definizione un segno a meglio chiarire questa definizione i parroci la spiegheranno partitamente innanzitutto insegneranno che sono due i generi delle cose percepite con i sensi esse infatti o sono state inventate per significarne altre oppure hanno la loro ragion d'essere in se stesse nella seconda categoria entrano quasi tutte le cose prodotte dalla natura invece nelle prime abbiamo le parole la scrittura i vessilli le immagini le trombe e altre cose simili togliendo infatti ad un vocabolo il suffice di significare si toglie al tempo stesso la sua ragion d'essere scusate no quando non capiamo un vocabolo che cosa diciamo noi quando siamo piccoli mamma che significa camaleonte perché camaleonte se uno non sa il significato che cos'è un camaleonte sente questo suono e non capisce niente quando studiamo una lingua nuova o parliamo anche una lingua straniera ma non possediamo il cento per cento dei vocaboli ogni tanto ci troviamo dinanzi a qualche vocabolo ignoto e ci conosce anche io sai che significa questo perché perché il vocabolo è un segno è un segno che rimanda a ciò che significa appunto significare significare significa fare un segno cioè parlando in mano questa io la chiamo statuina della madonna e se uno sente dire statuina della madonna capisce che cos'è ma perché sa che cos'è una statua e chi è la madonna quindi in alcune cose il carattere di segno è ancora più evidente no i gesti se io faccio così sto salutando per chi sente il podcast ho fatto ciao ciao con la mano ecco prima ho mostrato l'immagine della madonnina i segnali stradali no si chiamano segnali segnali viene da segno no io devo studiare quando vado a scuola guida perché devo capire dietro quella figura qual è il messaggio immediato attraverso perché sto guidando quindi nessuno mentre sto guidando mi può fare un discorso quindi c'è un cartello che mi avverte di qualcosa devi dare la precedenza c'è un incrocio c'è questo c'è quell'altro no il sacramento è proprio segno in questo senso dice queste cose sono appunto dette propriamente segni perché come spiega Sant'Agostino il segno oltre alle cose che offre i sensi ci fa anche prendere cognizione di un'altra cosa come dall'orme impressa nel suolo subito deduciamo il passaggio di qualcuno che ha lasciato appunto questo impronte numero 152 perché il sacramento ci dice segno ciò posto è evidente che il sacramento appartiene a quella categoria di cose che sono state istituite per significarne altre in quanto per mezzo di un'immagine e di una similitudine rappresentano quello che Dio opera per sua invisibile virtù nelle anime nei sacramenti c'è Dio che opera Dio in persona non è un gioco attraverso la sua virtù invisibile nelle anime che sono invisibili la nostra anima è invisibile per portare un esempio che renda più chiara la spiegazione il battesimo cioè l'abruzione esterna con l'acqua mentre si pronuncia la formula prescritta guardate che non l'avevo letto prima sta facendo lo stesso esempio che ho fatto io prima significa che per il tutto lo spirito santo ogni macchia di peccato e ogni turpitudine interiore viene mondata e le anime nostre si adornano del prezioso dono della giustizia celeste cosicché nel tempo stesso come spiegheremo in seguito detta avluzione corporale produce nell'anima quello che significa ecco proprio la caratteristica del sacramento ciò che significa quindi con l'acqua ci si lava no? ma l'acqua si anche beve e l'acqua è la vita perché io posso stare senza mangiare ma non senza bere quindi col battesimo mi si tolgono i peccati le brutture e però mi si infonde anche la grazia santificante che è la vita dell'anima come l'acqua dove per la vita il corpo chi ha sete venga a me bevano come dice la scrittura avete capito anche perché nei luoghi di apparizioni mariane pensate all'urdo no? c'è l'acqua l'acqua per lavarsi il bagno che rievoca evidentemente il battesimo e l'acqua da bere che rievoca il battesimo ed anche i sacramenti che servono ad accrescere la vita della grazia prima o fra tutte le ovestie ma anche della scrittura riprendo a leggere si ricava chiaramente che il sacramento deve collocarsi tra i segni infatti così scrive l'apostolo ai romani sulla circoncisione sacramento dell'antica legge dato da Abramo padre di tutti i credenti egli ricevette il segno della circoncisione segno della giustizia risolta per la fede afferma pure che noi tutti battezzati in Gesù Cristo siamo stati battezzati nella sua morte qui Giova rilevare che battesimo significa per l'appunto come dice l'apostolo che noi siamo stati insieme con lui sepolti nel battesimo per morire molto gioverà il popolo fedele intendere che i sacramenti appartengono al genere dei segni perché più facilmente si persuaderà che le cose da esse significate contenute e prodotte sono sante e auguste e una volta conosciuta la loro santità sarà eccitato a venerare più profondamente la bontà di Dio verso di noi quindi noi dovremmo stare tutta la vita in stato di magnifica e un'incessante per ringraziare Dio di cose tanto grandi e tanto sante e tanto auguste che ci ha donato ancora il sacramento è un segno istituito da Dio rimangono da spiegare le parole di una cosa sacra chiudiamo quest'ultimo paragrafo che costituiscono la seconda parte della definizione quindi segno di una cosa sacra ma per farlo più ampiamente è opportuno rifarsi da principio esaminare l'acuta e sottile trattazione di Sant'Agostino sulla varietà dei segni cosa che Sant'Agostino fa nella sua opera dedocrina cristiana alcuni di essi segni si dicono naturali perché producono la cognizione non solo di noi stessi ma anche di qualche altra cosa il che è comune a ogni genere di segni come ha detto il fumo per esempio accusa subito la presenza del fuoco questo segno si chiama naturale perché il fumo non significa il fuoco per convenzione ma per esperienza chi vede solo il fumo subito ne deduce la presenza e la forza del fuoco ancora la mente altri segni non sono naturali ma convenzionali inventati dagli uomini per poter parlare tra di loro aprire ad altri sensi dell'animo proprio e insieme conoscere i giudizi e i proposti degli altri questi sono molteplici e vari come si rileva dal fatto che alcuni si riferiscono alla vista molti all'udito e il resto degli altri sensi quando per esempio per manifestare qualche cosa agitiamo una bandiera è chiaro che il segnale si riferisce esclusivamente alla vista mentre il suono delle trombe del flauto della cetra provocato non solo per diretto ma spesso per significare qualche cosa aspetta l'udito soprattutto in questo senso vanno prese le parole che mirabilmente valgono a esprimere i più riposti pensieri dell'animo oltre ai segni costituiti per consenso e convenzione degli uomini ve ne sono altri stabiliti da Dio pur non essendo tutti per comune consenso del medesimo genere taluni infatti sono stati dati da Dio agli uomini solo per significare o ricordare qualcosa come le purificazioni il pane azimo e molte altre spettanti al culto mosaico altri invece non servono solo per significare ma anche per produrle un effetto tra questi ultimi si devono evidentemente enumerare i sacramenti della nuova legge i quali appunti sono segni di istituzione divina e non di invenzione umana essi come noi crediamo fermamente hanno in sé la virtù di operare quello che significa ecco l'importanza dei sacramenti operare quello che che significano cioè essere di fatto la causa della nostra santificazione per cui concludiamo sapete il mito del cattolico non praticante no? ah padre io credo io sono un gran credente però ammessa mi vede poco cioè mai confessione mai sapete quanti battezzati vivono di fatto senza sacramenti a gugu ma senza sacramenti è impossibile non peccare mortalmente lo dice San Tommaso perché tu non puoi diventare santo se non sei santificato e non sei santificato se non attraversi i sacramenti è una nuova alleanza punto non sono un optional non sono una cosa di cui possiamo fare a meno i sacramenti non sono un optional sono necessari alla nostra santificazione indispensabili anzi più avanti si dirà abbiamo sentito nelle introduzioni dei titoli dei paragrafi che non tutti sono parimenti indispensabili il battesimo per esempio è ordinariamente necessario alla salvezza Gesù ha detto andate in tutto il mondo predicati del Vangelo battezzandoli nel nome del Padre e del Fio e del Spirito Santo noi non possiamo e non possiamo dire non possiamo e non dobbiamo dire che chi non è battezzato vabbè non fa niente tanto c'è la sua fede e il Signore lo salverà lo stesso allora il conto è l'ignoranza invincibile e il fatto che il nostro Signore certamente non può chiedere ad una persona e giudicare ad una persona su quello che non può dare e che non sa perché Gesù ha detto andare in tutto il mondo annunziato del Vangelo e battezzare perché se non ricevi il battesimo in teoria non è che sei dannato automaticamente perché non battezzato ma è molto difficile raggiungere la salvezza senza il battesimo dire molto difficile è dire poco forse quasi impossibile sicuro San Tommaso dice che un battezzato che vive senza sacramenti può stare sicuro di non stare in grazia di Dio noi non possiamo essere sicuri di starci in grazia di Dio ma possiamo essere sicuri di non starci in grazia di Dio chi sta lontano dai sacramenti non sta in grazia di Dio quindi i sacramenti non sono un optional sono una cosa sacra che va trattata come tale da tutti e proprio perché sacra e quindi santificante istituita da Dio in persona come segno che produce quello che significa non è opzionale noi diventiamo tanto santi tanto quanto bene santamente frequentemente regolarmente devotamente e degnamente riceviamo e per noi preti anche celebriamo i sacramenti appuntamento amici alla prossima puntata di Unbenedica la Santa Vergine di Ippotegga